Cronache di Yoshitsune Capitolo 11 La storia dell'abate Yoshitsune a Nara Intanto Yoshitsune si trovava a Nara, ospite del monaco Kanjubo, che l'alloggiò nella stanza dove era uno stato di fuga e kokuzo, che il monaco venerava fin da piccolo, e ogni giorno cercava di convincere Yoshitsune a prendere i voti religiosi e a vivere da monaco sul monte Koya o Akogawa, per espiare i peccati commessi in questa vita e guadagnare meriti per la prossima, ma Yoshitsune gli rispondeva sempre che ci avrebbe pensato tra qualche anno. Fuge, in ideano Samanta Batra, è una bodhisattva, ma dato la sua importanza nel Sutra del Loto, in Giappone la setta Shingo lo considera un Buddha primordiale. Per quanto riguarda Kozugo, in indiano Akasagarbha, è un importante bodhisattva, ma per la setta Shingon giapponese è considerato un Buddha, viene associato all'intelletto e alla memoria, e esiste un mantra a lui rivolto, usato con lo scopo di aumentare le proprie capacità intellettuali, che si dice abbia utilizzato lo stesso Kovo Daishi, il fondatore della setta Shingon, è anche egli una figura centrale per la setta Nichiren. All'epoca vi era a Nara un monaco ben poco pio, detto il Decano di Tajima, che aveva formato una banda di sei uomini, di cui facevano parte anche Izumi, Mimasaka, Ben Nokimi e Teifubo. Egli si accorse che l'ospite di Kanjubo, nella pelle candida e di esile e corporatura, portava al fianco una spada decorata d'oro e bremava di rubargli e perciò propose ai suoi compari di aiutarlo. Mimasaka cercò di distogliere il Decano di Tajima dal suo intento, affermando che forse quell'uomo era il famoso Kuro Yoshitsune, ma venne tacciato di essere un codardo, e perciò quei monaci malvagi architettarono di assalirlo, facendo finta che fosse stato proprio lui a oltraggiarli per primo. Mentre Yoshitsune stava suonando il flauto, Tajima si avvicinò e dopo averlo urtato di proposito, lo accusò di averlo assalito, al che i suoi compari corso nel suo aiuto armati di falci e naginata. Yoshitsune non si scompose, estrasse la spada ed in pochi istanti spezzò le loro armi e uccise cinque dei suoi assalitori, mentre uno riuscì a fuggire, mentre colpendolo con l'ensa trammortì Tajima. Poi, non volendo ucciderlo, dato che era un monaco, gli tagliò le orecchie e il naso e lo cacciò. Tajima da allora scomparve da Nara. Yoshitsune si recò da Kanjubo, per annunciargli che sarebbe partito l'indomani, dato che di certo quanto accaduto sarebbe giunto alle orecchie di Yoritomo, ed egli avrebbe potuto attaccare Nara per catturarlo. Kanjubo cercò di convincerlo a rastare, offrendosi di chiamare in aiuto i suoi amici e i monaci del Kofuku-ji, del Todai-ji, del Mi-dera, di Yoshino, Totsugawa, Kurama e Kiyomizu, e se le cose si fossero messe male, offrendosi di morire assieme a lui. Yoshitsune ne fu commosso, ma nonostante ciò, quella notte lasciò Nara. Non trovo nessuna informazione su tale Kanjubo, forse il nome è errato? Nel giro di pochi giorni, Enrokuara si sparse la voce che Yoshitsune, assieme a Kanjubo, aveva iniziato a raccogliere i monaci per ribellarsi contro Yoritomo, e che avessero ucciso quelli che si riflettavano di seguirlo. Tojo Tokimasa mandò un messaggero a Kamakura per avvisare Yoritomo, e Yoritomo, sul consiglio di Kajiwara Kagetoki, mandò Ori Toji Chikaiye a Rokuara con 50 cavalieri e l'ordine di condurre Kanjubo a Kamakura per essere interrogato. Potrebbe trattarsi di Ori Yorishige, il terzo figlio di Minamoto Mitsushige, chiamato anche Fukaso Saburo, che discendeva dai Setsugenji, con base nella provincia di Shimosa. Giunto nel capitale, Chikaiye rifaria gli ordini a Onjo Tokimasa, e insieme si raccarrono dall'imperatore ritirato Go Shirakawa, ed egli disse che, essendo Kanjubo un maestro di preghiera dell'imperatore, era necessario spiegare in modo completo cosa era successo. Così, si rincarono dall'imperatore Gotoba, e il sovrano, dopo averli ascoltati, diede loro il permesso di arrestare subito Kanjubo. Ojo Tokimasa si ricò dunque a Nara con 300 cavalieri, e gli annunciò la decisione dell'imperatore. Kanjubo si dolse che il potere imperiale fosse scivolato tanto in basso, ma accettò di recarsi nel canto da Yoritomo, con la speranza di poterlo convincere a cambiare idea. Per prima cosa, Kanjubo venne condotto a Kyoto, e affidato alla custodia di Ojo Yoshitoki. Yoshitoki, durante il suo soggiorno, gli chiese se desiderava qualcosa, e Kanjubo gli rispose che sarebbe stato felice di vedere il monaco One, che da Kurodani si era trasferito a Higashiyama. One incontrò volentieri Kanjubo, e, tra le lacrime, si schiambarono alcuni doni, e la promessa di pregare per l'anima di chi tra loro fosse morto per primo. Il monaco Kanjubo era discendente da tre grandi famiglie, ovvero i Kan-in, i Kazan-in e i Nakano-in, ed era l'abate dei Todai-ji e percettore dell'imperatore, noto per la sua grande sapienza e misericordia. La famiglia Kan-in era la più giovane delle Shin-oke, ovvero le quattro casate principesche, i cui membri potevano succedere al trono imperiale, in caso non vi fosse un figlio diretto dell'imperatore. Tale casata, tuttavia, fu stabilita solo nel XVI secolo. La famiglia Kan-in, a cui si fa riferimento qui, deve essere quella originata dal principe imperiale Sadamoto, figlio dell'imperatore Seigua, 850-881. La famiglia nobile Nakano-in ha come capostipite Nakano-in Michikata, 1189-1239, quinto figlio di Tsuchimikado Michichika, discendente dal principe Tomu-ira, figlio dell'imperatore Murakami. La famiglia Kazan-in o Kazano-in discende da Kazan-in Ietada, secondo figlio di Fujiwara Morzane, 1042-1101, il cui membro Kazan-in Kanemasa era gran consigliere dell'imperatore Go Shirakawa, 1127-1192, e anche in seguito i suoi membri furono fedeli assistenti dell'imperatore Godaigo, 1288-1339. Vestito di una tunica di lino, lo fecero salire a cavallo, e Oritoji lo accompagnò a Kamakura, ma per Kanjubo fu un duro viaggio, dato che, essendo abituato a spostarsi in Portantina, non era avvezzo a cavalcare, e cadde di sella molte volte. Superarono Wataguchi, Matsuzaka e Sode Kurabe, il fiume Yoshinomiya, dove si diceva avesse vissuto il quarto figlio dell'imperatore Daigo, Semimaru, passarono la barriera di Osaka, e si fermarono a pregare al tempio Sekidera, dove passò la sua vecchiaia Ono Nokomachi. Superarono il tempio Onjo-ji, Otsu e la spiaggia di Uchide, superarono il ponte di Seta, e poi passarono per Noji e Shino-ara. Raggiunsero Ono-no-suriari, le montagne Kagami, il monte e i buchi, e si fermarono alla locanda di Kagami. Lì Oritoji, impietosito, prese una Portantina per Kanjubo, avvisandolo da subito, però, che la stazione di Koshigoe lo avrebbe fatto risalire a cavallo, e così sarebbe dovuto entrare a Kamakura. Kanjubo ne fu commosso. Raggiunsero Kamakura in quattordici giorni, e per quattro o cinque giorni Oritoji alloggiò Kanjubo nella sua dimora, per dargli tempo di riprendersi, ma poi avvisò Yoritomo, che convocò il monaco il giorno stesso. Yoritomo fece anche convocare i suoi uomini più fidati, ovvero Wadako Taro Yoshimori, Miura Sawara Juro Yoshitsugu, Chiba Tsunetani, Kazai Yoe Kiyoshige, Toyota Taro Morotani, Utsunomiya Yasaburo Tomotsuna, Unagami Jiro Shigetani, Oiyama Shiro Tomomasa, Naganume Goro Munemasa, Taro Michitsuna, il monaco di Onodera, Kawagoe Taro Shigyori, Kawagoe Kojiro Shigayoshi, Atakeyama Jiro Shigetada, Inage Saburo Shigenari, Kashiwara Kagetoki e suo figlio. Chiba Tsunetane, 1118-1200, morte a 82 anni, qui ne ha circa 67, era il figlio di Teira Tsuneshige e nel 1180 seguì Yoritomo contro gli Eike, combattendo a Fujigawa e a Ichinotani nel 1184. Partecipò alla campagna contro Oshu del 1189 e nel 1190 sottomise la rivolta guidata da Kaneko Okawa nel Dewa. Kasai Kiyushige, 1161-1238, era figlio di Toshima Tomotsune e membro della famiglia Chichibu che combatté per Yoritomo alla battaglia del monte Atsugashi contro Fujiwara Yasuhira. Divenne Sobugyo, ovvero magistrato di Iraizumi Nino Oshu, dopo la campagna del 1189 e da allora il protettore del nord. Venne sostituito dai cosiddetti samurai di Oshu. Utsunomiya Tomotsuna, era il terzo capo famiglia degli Utsunomiya e fu definito da Yoritomo come il migliore acero del canto. Gli Utsunomiya erano un clan di Shimotsuke e i suoi membri ricoprivano il ruolo di abate del tempio Utsunomiya Futarayama Jinja e di amministratore del tempio di Nikku. Oyama Tomomasa, 1155-1238, era figlio di Oyama Masamitsu, con sede a Tsuga ed era Shubu della provincia di Shimotsuka e Arima e divenne Gokenin di Yoritomo. La madre di Tomomasa era stata balia di Yoritomo. Combatterà i Shinotani nel 1184 e nel 1189 a Monomigaoka. Configgerà le forze degli Oshu Fujiwara, permettendo l'avanzata delle truppe di Yoritomo sul castello Takahaba di Tamatsukuri. Taro Michizuna, detto Zenji Taro, era un membro della importante famiglia Onodera, distretto di Tsuga, provincia di Toshiki. Inage Saburo Shigenari, morto nel 1205, è Oyamada Shigenari, figlio di Oyamada Arishige, ed era un fedele servitore dei Taira, come Atakeyama Shigayoshi, ed era il padre di Inage Shigenari, cugino di Atakeyama Shigetata. Anche lui faceva parte del clan Chichibu, come Atakeyama Shigayoshi, e fu il fondatore del clan Oyamada. Suo figlio Shigenari, nel 1180, si unirà alle forze di Yoritomo e sposerà una sorella di Ojo Masako, la moglie del futuro Shogun. Combatterà contro Kiso Yoshinaga nel 1184, a Ichi no Tani e a Oshu nel 1189. Nel 1195, mentre si stava dirigendo a Kyoto con Yoritomo, Shigenari venne a sapere che la moglie era molto malata, e lo Shogun gli concesse uno dei suoi migliori cavalli, Shumei, per correre da lei. Il mese dopo, la donna morì e in Shigenari si fece monaco con il nome di Dozen, ma era chiamato anche Inage Nyudo. Nel 1198, costruì un ponte sul fiume Sagami in memoria della moglie, alla cui inaugurazione parteciperò proprio Yoritomo, che tornando a casa, cadde a cavallo e morì a causa della caduta. Nel luglio del 1205, Shigetada accusò falsamente a Takeyama per volere di Ojo Tokimasa, ma venne comunque ucciso assieme al figlio Ozawa Shigemasa da Miura Yoshimura nell'agosto dello stesso anno. I suoi possedimenti passeranno, grazie all'intervento di Ojo Masako, la moglie del defunto Yoritomo, a sua figlia, Ayano Koji Rishitsu. Kawagoi Shigeyori, che assieme a clan Iki fornirà denaro a Yoritomo per la guerra a Genpei. Nel 1180, assieme a Edo Shigenaga, conquisterà il castello di Kinugasa, uccidendo Miura Yoshimura, poi si unirà a Yoritomo. Nel 1184, sarà tra coloro che riprenderanno Kyoto a Kiso Yoshinaka, sotto il comando di Nori Yori e Yoshitsune. Suo figlio Shigefusa catturerà a Ichinotani il famoso cavallo Inoguro, o Kawagoeguro, che apparteneva a Teira Tomomori. Dopo la battaglia, darà in sposa a sua figlia, Sato Goze, a Yoshitsune, e verrà perciò accusato di complicità con il genero da parte di Yoritomo, e poi ucciso da suo stesso figlio Shigefusa nel 1185. A Takeyama Shigetada, 1164-1205, era un servitore del clan Teira, ma passò poi alla fazione Genji, e figura già tra coloro che compirono la famosa impresa di attraversare il fiume Uji a cavallo. Anche se i due personaggi più famosi, in questo caso, sono Sasaki Takatsuna e Kajiwara Kagesue, ma il suo cavallo finì ucciso dalla freccia, ed egli dovette raggiungere l'altra riva a nuoto, aiutandosi con il proprio archeo. In questo episodio si svolglie nel 1182. Parteciperà anche alla battaglia di Awazu del 1184, tra le truppe di Minamoto Kiso Yoshinaka e le forze di Minamoto Yoritomo, cercando di catturare, senza successo, Tomo e Goze. Dopo la morte di Yoritomo nel 1199, il reggente Ojo Tokimasa ne fece uccidere il figlio Shigeyasu. Si dice in seguito a una disputa, ma probabilmente fu un calcolo politico. Nel 1205, mentre il figlio di Ojo Tokimasa, Yoshitoki, conduceva un attacco a sorpresa ad Atakayama Shigetada e i suoi uomini, che si stavano recando a Kamakura, proprio per unirsi alle truppe dello Shogun. Un episodio ricordato come battaglia del Futamagawa, nel quale il clan di Atakayama fu annientato. Prima di lui, sorte identica, era accorsa anche a Kashiwara Kagetoki e a Ikki Yoshikazu. Kashiwara voleva che Kanjubo fosse convocato nella stanza vicino alle entrate secondarie del portone centrale, ovvero quella riservata dall'interrogatore dei criminali. Ma Atakayama obiettò che ciò sarebbe stato oggetto di critica, perché Kanjubo si è rappresentato spontaneamente. Inoltre, era maestro dell'imperatore e Abate ha detto Daiji, e Yoritomo ascoltò il suo consiglio. Dopo che Kanjubo venne ammesso alla presenza di Yoritomo, ci fu un lungo silenzio, rotto in fine da Yoritomo, che accusò il monaco di essersi alleato da un traditore e di aver istigato i monaci a combattere contro di lui, minacciando di torturarlo se non avesse confessato tutto e rivelato dove si nascondeva Yoshizune. Le lacrime rigarono il volto di Kanjubo, che con calma disse che non c'era motivo di denigrarlo e che credeva che Yoritomo fosse un uomo di natura compassionevole. In fondo, era sopravvissuto alla ribellione di Eiji e allo sterminio della sua famiglia grazie alla compassione della madre adottiva di Taira Kiyomori, ed era stato accolto dagli Ojo. Suo fratello Yoshizune non aveva perso tempo a mettersi al suo servizio, rischiando la vita fin dalle prime fasi della ribellione contro gli Eiche. Kanjubo gli raccontò che l'anno precedente, il venticottresimo giorno del dodicesimo mese, Yoshizune, che non egli non aveva mai conosciuto prima, era giunto da lui solo. Ed è così, mosso da compassione, lo aveva accolto e aveva cercato di convincerlo a farsi monaco, proposta che aveva sempre rifiutato per via di Kajiwara. Aggiunse inoltre di aver pregato per entrambi i fratelli durante la lotta contro gli Eiche, e che non aveva senso torturarlo, perché non avrebbe aggiunto altro. Se voleva fargli tra le nella testa, tanto voleva farlo immediatamente. Yoritomo rimase sorpreso e ammirato dalle parole di Kanjubo, e gli propose di fermarsi a Kamakura per tre anni per diffondere l'insegnamento ai buddhisti. Kanjubo, dopo un iniziale rifiuto, accettò la proposta e per lui venne costruita una dimora in legno di cipresso dietro lo Shou-Chou-Ju-In, e Yoritomo andava a trovarlo ogni giorno. In il tempio Shou-Chou-Ju-In, fondato nel 1185 in onore del padre di Yoritomo Yushitsune Yoshitomo, attualmente non esiste più. Durante le loro conversazioni, accadeva spesso che Kanjubo consigliasse a Yoritomo di perdonare Yushitsune e riconciliarsi con il fratello, e Yoritomo rispondeva che lo avrebbe fatto, ma Kashiwara Kagetoki continuava ad opporsi ed impegniva che venisse graziato ufficialmente. Poi, un giorno giunse notizia che, dopo la morte di Fujiwara e Deira, suo figlio maggiore Yashu-Ira aveva ucciso Yushitsune e i suoi seguaci, in quello che era il quinto anno di Bunji, ovvero il 1189. Kanjubo, venutolo a sapere, se ne rammaricò amaramente, e lasciò subito Kamakura senza nemmeno dire Dio a Yoritomo, tornando al Todaiji, dove copiò di sua mano 226 copie del Sutra per aiutare l'anima di Yushitsune a raggiungere l'illuminazione.